Mi piace l'uccello, mi piace un uccemello, ma mi piace molto proprio il pisello. Ne ho un pochettino mi dissono, è poco poco. Vero Leo? Dimmi, scusami. Ti piace il pisello? Sì, sì, quelli verdi mi piacciono tantissimi, sono buoni proprio. Sei stato clippato dalla live di Alpha. Sì, sì, va bene, va bene. Clippami anche sta ceppa di minchia. Ah, pure quella? Oggi Jacopo, quando vieni qua devo farti provare una cosa. Oggi che c'era bel tempo c'erano tutti i ragazzini in giro a bareggio, no? Allora eravamo io, Luca e Ale nella mia macchina. Minchia, tiravo le marce, zio cane, c'erano tutti che si giravano. Una vecchietta mi ha fatto il segno di andare più piano. Eh sì, ah no, no, vado più forte, porco. No, ho fatto vedere perché c'è sta via qua, no? Aspetta, ti faccio vedere. C'è sta via qua che è stretta, no? Hai presente tipo il rettilineo di Monaco? Hai attivato la telecamera o lo capisco perché? No, 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 perché non posso attivarla perché è attiva su Streamlabs, comunque. Mi ha guardato tipo, c'è sto rettilino piccolino, che è tipo come quello principale di Monaco, ok? Che è un po' curvo, muri stretti. Quindi se tu vai lì in seconda, giù tutto, rimbomba tutto ovunque, no? A fine via c'era una vecchietta che mi aspettava con le braccia aperte, del tipo, che due coglioni, tipo così, no? E infatti, c'è una vecchia che ti ha guardato male, tipo io, sì sì, ok. Nobody cares. Nobody cares. Beh, comunque tieni, se vuoi vedere anche come finirò a muro oggi. No, 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 perle, ti vuoi chiudere, perle. Masamu dov'è? Corre. Non ho l'acqua, arrivo subito. 8.10. Let's go, let's go. Ciao. Ciao. I'm here, ma corre pure il Poseidook. Chi è che corre? Psyduck. Psyfuck. Sì, corre lui. Corre pure il tuo amico Last Paper. No, perché ho scelto di fare sta cosa? Dov'è Samu? Samu c'è, c'è. Tranquillo. Lì stiamo antipatici, che non viene sul Discord. Anticiatici. Molto antipatici. Ciao CP. Eh sì. Quanti amici di Leo in questa descrizione? Quanti amici tuoi sono? Gamer, SGplay. Weds. No, vedi che piove. In FNR hanno fatto la gara con le full wet in Qatar. No, aspetta che devo mettere il telefono. Speriamo che tutto sia ok. Speriamo, speriamo. Cosa facciamo? Bah, io mi tengo la mia giornata. Bilanciato. Bilanciato, bilanciato. Sì, sì. Sono in live io? Anch'io. Ciao amici followers. Inininininininininininininininininininini. Che bello tornare a correre nel TR2 per incazzarsi, per chiudere bene un sabato bellissimo. Oh, poi esco, vado a muro con la macchina Fast in, fast out Sì, dillo più forte però Se lo dici più forte, accade più forte, capito? Te fai un voto di go, 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 come Assurdo No, 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 a te assurdo No, poverino, lascialo andare Ma c'è anche Brad Mica, c'è pane Il pane Ok, buone notizie, non piove Io metto la benzina di uso solo nell'ultimo try A me non posso rientrare veloce Aerodinamica, un click in più Uno click Con la benzina, no, mettiamone 6 kg Anche 7, direi Andiamo che devo abituarmi alla qualifica E alla macchina soprattutto Perché è un po' una merda C'ho un sound che fa veramente schifo Eh lo so, nemmeno devo sopportare tutta la gara Dispiace Eh eh Lo so Ciao Samu Ma perché Zanna corre? Ah no, è molto No, è molto Perché corre Zanna che è un T1? Ma ti fai il cazzo tuo, non ho capito No, perché corri? Ha chiesto la riserva, gli è stata data Puoi farlo pure te Ti chiedi la riserva Ma vaffanculo Eh dai Ma in realtà io ho fatto un accordo con Psyduck E io e te possiamo fare riserva Come non ti interessa? Ci ho procurato un accordo per correre sempre un tier 2 A te non interessa Ah no, aspetta Sei un mob bar Non lo so, 19 ora Siete 20 Ma uno è crashato Quindi aspetta che adesso rientra per l'altro No, no Siamo giusti 20 comunque Io ne vedo 19 Per me sono 20 Perfetto No, mia main No, non è vero Chi è? Sarà Samu o non sarà Samu? Ma Samu non corre? Eh sì Chi è? Sarà Samu o non sarà Samu? Mi senti? Ok, ciao Samu Ciao Samu, sono in pista anche io Ho visto, ho visto C'è buona serata In Alpina Ma alle 8 era? Ah ciao John Sì, alle 8 Ciao Vabbè mi lancio Bella Tocchia Ma la grega era piena? Sì, sì È piena Allora L'hanno fatto 21 Chi ha fatto 21? No, la poli in T1 Era fratello Ah ok Pensavo l'avessero fatto adesso Mi stava prendendo un cupolone Ma si fa 21 L'avevo fatto io in azalea Sì sì, lo so che si fa Però Da quello che avevo provato io Non riuscivo a scendere sotto il 28 Oggi Beh se già partiamo con la polpa temporanea e 21 e 1 La polpa temporanea è una sola A posto E' un po' di zanacchiai Ma è stupid zanacchiai Perché? No perché è stupid e basta Se giro di merda si può fare molto meglio Si può fare molto meglio ma... Sei un pochino zanacchiai Dai! Io ho più forte Sei un bocchino No l'altra sera ho fatto 29 si può fare meglio Molto meglio Sei comunque... ... 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